Il diniego di una concessione demaniale potrebbe essere questo il motivo che ha scatenato il gesto intimidatorio che ha colpito questa mattina il sindaco di Santa Maria del Cedro Giuseppe Aulicino e il responsabile dell'ufficio tecnico. Quattro ruote squartate per il sindaco e due per il dipendente comunale. Un segnale di insofferenza di fronte ad un atto amministrativo, sintomo di una cultura deviata che non si chiede il perché di un provvedimento ma agisce con la logica della ritorsione. Si deve dire no quando non ci sono le condizioni, non sono dei principi astratti che si affermano ma sono delle regole scritte o da noi nei nostri regolamenti o dal legislatore sia regionale che nazionale e nessuno può agire in questo modo. Nessun nesso con i fatti di cronaca delle ultime settimane, almeno questa è la sensazione del sindaco di Santa Maria che conosce bene le dinamiche del suo paese dove tra l'altro pochi giorni fa si era verificato un altro episodio di minore entità. Circa 20 giorni fa è successo un altro fatto, è stato invattato qui un marmo che contiene la preghiera di Giovanni Paolo II alle donne, con scritte che non hanno un senso, quando meno non trovano riscontro in quella che è una dialettica tra virgolette tra chi lavora nell'occulto per i messaggi che l'ange. La Calabria a tutte le latitudini si conferma purtroppo terra dove la cultura del diritto viene percepita sempre più come un impedimento, dove le regole sono degli ostacoli per superare i quali ogni mezzo è lecito, un modo distorto di percepire e vivere la realtà che finisce per diventare ostile proprio per chi invece agisce nel rispetto delle norme e consenso del dovere. Una cosa è certa è che non ci lasciamo intimorire da nessuno, l'unica cosa che ci può preoccupare è la scarsa salute mentale, quella ci preoccupa, ma quando ci troviamo di fronte a un'intimidazione che ci può portare a fare delle cose che non sono in linea con le regole, con le leggi, non lo faremo mai. Grazie a tutti.